Buon giorno E' prevenuto in questo nuovo video Per la ciòa E dico Per la ciòa Della mia amica May Che mi sa chiedendo L'home tour della casa Non so Per quanto tempo Però voglio fare una piccola promessa Non mi sono preparata niente Non è che ho messo la casa Lucida Sistemata No E' un giorno normale Devo cucinare Per cui Vedete un po' di Caos In cucina Però Ho detto Se non lo facciamo Non lo faccio più Questo Home tour Per la mia amica Pronti? Via Ecco qui Ecco qui Come entro Dalla porta di ingresso Mi trovo Il postiglio E qua Mi trovo La camera da letto Eccola qua Eccolo ingresso Ho messo il tivano Di fronte In quella stanza C'è la cametta E qui c'è il bagno Ecco qua Ecco qua Ecco qua in bagno E' bello Creante Qua c'è la vasca Ecco qua Poi Entriamo In Cameretta Diciamo Che Questa Tra virgolette E' la stanza Del Casino Tra virgolette Perché ora Sistemo E fa 10 minuti Il letto Ciò non si capisce Più Nulla Ecco qui Questa è la cametta Ci mancano Solo Le Tente Purtroppo Il cinese Che ho comprato Le altre Tente Che ho in camera Ad letto Non le apportate Questa è la cucina Qui c'è il frigo Che Ovviamente Ha Di sempre Questo Ve ha Campiato Il Concelatore O Stentino Perché Ho una maglia Che devo lavare E non puoi Contenna Aciucatice La metto Sul Stentino Queste sono Le intente Che mi Ecco La mia amica La C'è la televisione Questo Mobiletto Che lo Devo Assolutamente Buttare Che ci Metterò Una Una Mensola E ci Appoccerò Il team Visio La bella C'è la Spassatura Questo Mobile Che Lo Devo Puoi Campiare Per il momento Mi deco Questo Come vi ho detto All'inizio Trovate cose Sopra Perché devo fare Il pranzo Devo preparare E la ho preparato C'è i chiedenti E questa è la cucina Che ce la conoscete E anche sulla cucina Ci sono cose Per il pranzo Ecco qua Questa è la cucina Il tavolo Le sete Le devo cambiare E questa è la mia casetta È un home tour Piccolissimo È un home tour Piccolissimo Perché Non è che Ci sa Tattire In cranchere Perché comunque Poi le cose Man mano Ve le mostro Ve le dico Come sapete Che la mia Camera Tra letto È Ikea La cucina È di molto convenienza Il tavolo È di Ikea Per cui Le cose Ve le dico Man mano Per cui Non ho nulla Di eccezionale È una piccola Cassetta Di 70 metri Quarti Ed è Il nostro Nito d'amore Detto ciò Spero che La mia amica Sarà super super Contetta Di questa sorpresa Magro Un bacio E ci vediamo Al prossimo Video Tio 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 Ciao!